E' stato presentato sabato un lungo lago fiorito per onorare il nome del paese per renderlo più accogliente sia a turisti che a villeggianti e residenti. E' stato quello che ha promosso l'amministrazione comunale di Belgirate in occasione di Belgirando tra i fiori, una delle manifestazioni che annuncia la prossima stagione turistica. Il lungo lago Prini, dalla piazza della chiesa al monumento di Benedetto Cairoli, è stato arricchito da composizioni floreali realizzati con estrema fantasia. Alla premiazione dei singoli collaboratori, il sindaco Leto, il primo cittadino accolto, l'occasione per annunciare gli ottimi risultati turistici raggiunti nella stagione 2018. I protagonisti si sono sbizzarriti in materiali poveri, a volte riciclati come biciclette ad orne, gli alberi fioriti composti da bottiglie di plastica colorate e trenini colmi di viole e cassette ripiene di florescenze cromatiche. A curare il tutto la consigliera Mazzardi, che con il sindaco ha proceduto alla premiazione dei protagonisti dell'iniziativa. Il pubblico è stato poi accompagnato in un giro per ammirare le opere artistiche con al centro i fiori disseminati sul lungo lago di Belgirate.